Dal 15 al 17 marzo i volontari dell'AIL torneranno nelle piazze per la vendita delle uova di Pasqua solidali che serviranno a sostenere la ricerca e i progetti dell'Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mielomi. Per raggiungere un numero maggiore di cittadini i cosiddetti punti solid-AIL saranno allargati anche agli esercenti con il coinvolgimento delle associazioni di categoria, confesercenti, confartigianato e confcommercio, presenti alla conferenza stampa sull'evento che si è svolta presso la Casa AIL di Via Rigopiano a Pescara. Al Tg8 Antonella De Angelis, presidente della sezione AIL di Pescara. Dal 2022 abbiamo avuto questo regalo grazie alla sensibilità della confartigianato, confcommercio e confesercenti per avere poi coinvolto gli esercenti a voler mostrare i prodotti delle nostre campagne che sono le stelle di Natale, sogni di cioccolato, le uova, proprio perché sono campagne che sostengono l'AIL. Nella fattispecie l'AIL, la sezione di Pescara, il sostegno va a questa struttura che ospita gratuitamente pazienti e i loro caregiver che si curano qui all'ospedale di Pescara. Tra l'altro abbiamo 25 punti vendita tra il pescarese e Chieti che ci siamo e ci siamo proprio per le persone che non sanno. Io ho saputo recentemente di un paziente che ha fatto avanti e indietro dal Chietino a qui, facendosi tanti chilometri per curarsi. Quindi è importante parlarne per far sapere loro che ci siamo e che possono vivere la malattia in una struttura con delle persone che si dedicano a loro e viverla in maniera più, diciamo, in maniera migliore e sentirsi un po' più coccolati, se si può dire questo. Questa casa che è stata aperta nel 2009 è una casa alloggio, appunto, voluta fortemente dall'avvocato Domenico Cappuccilli, che io sto sostituendo da pochi mesi. 11 camere, ogni camera ha uno spazio proprio per in cucina. 83 sono le sezioni AIL, solo 32 hanno la casa AIL e noi siamo una delle case più belle. Tra i punti solid AIL coinvolti nella vendita delle uova di Pasqua non solo piazze ma anche esercizi commerciali delle associazioni di categoria coinvolte, come spiegano i presidenti Giancarlo Di Blasio, di Confartigianato, Marina Dolci, di Confesarcenti e Riccardo Padovano, di Confcommercio. Quando AIL chiama Confartigianato risponde sempre presente. Siamo onorati di partecipare a questa iniziativa. Sappiamo che questa donazione va a buon fine. Noi rappresentanti di associazioni siamo anche come garanzia. Siamo orgogliosi di essere sostenitori di iniziative dell'AIL e di tutti quelli che aiutano le persone in difficoltà.